È con piacere e con orgoglio che presentiamo la scuola di formazione robotica della nostra ASNT Santipaolo e Carlo. È un traguardo importante, un progetto che è nato un anno fa e che grazie a Regione Lombardia, in particolare all'assessorato dell'innovazione e ricerca scientifica e alla scelta dell'Università degli Studi di Milano di farla nascere qui da noi questa scuola. È un momento importante per noi, è veramente un momento importante di svolta. È vero che in questi anni si è fatto molto sugli investimenti in ambito tecnologico, ma il robot chirurgico è senz'altro l'innovazione delle innovazioni. È per questo che io volevo veramente ringraziare Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Milano, tutti i nostri collaboratori, il professor Opo, che era il professor Centanni, tutte quelle persone che hanno creduto in qualcosa che oggi finalmente vediamo realizzato. Per la sicurezza dei nostri pazienti e per la formazione dei medici che verranno e che lavoreranno in tutta Italia, ma anche qui da noi.